Vuoi sapere quali sono i migliori 10 libri sul business e sul mindset che devi assolutamente leggere? Sono Stefano Montana, creatore del sito web montanabusinessonline.com e in questo video andrò a mostrarti esattamente quali sono i migliori libri che devi assolutamente leggere per il tuo business e per il tuo mindset. E benvenuti ragazzi, Stefano Montana qui per voi con questo video molto educativo in quanto andrò ad illustrarvi i 10 libri migliori in assoluto che esistono per quanto riguarda il business e soprattutto il mindset. Quindi direi di iniziare subito con Think and Grow Rich che sicuramente molti di voi conosceranno. Ah, piccola premessa, sono tutti titoli in inglese, comunque non so se li troverete in italiano oppure no. Comunque vi consiglio di impararvi l'inglese prima di tutto ovviamente e di leggerveli in inglese perché sono tutta un'altra cosa e comunque in lingua originale si sa è meglio. Quindi, ricapitolando, Think and Grow Rich, Napoleon Hill, questa è proprio la base che tutti quanti ovviamente penso conosceranno chiunque è un po' nel business, diciamo ha un business già da un po' comunque ha questa mentalità imprenditoriale, sicuramente conoscerà Think and Grow Rich parla diciamo di diverse storie di ricchi, diciamo miliardari, come sono diventati ricchi, il mindset che devi avere. Quindi questa è proprio la base del mindset dell'imprenditore, ok? Che devi comunque puntare sempre all'abbondanza, ok? Non la scarcity, quindi non la scarsità, ok? In qualsiasi cosa fai. Quindi ovviamente questo è proprio il numero uno che dovete assolutamente leggere e ve lo consiglio anche perché non è molto lungo e scorre bene, ok? Io, ah, un'altra cosa è che io questi li comunque li ascolto tutti tramite audiobook, sono anche presenti su YouTube gratuitamente o li trovate su internet, quindi non serve che comprate libri o se preferite gli audiobook ci stanno anche gratis online. Quindi, secondo libro, Rich Dad Poor Dad, anche questo famosissimo, Robert Kiyosaki, che è anche abbastanza famoso su YouTube, ovviamente questo libro anche parla principalmente della storia di lui, cioè di lui che è un figlio di due padri, ok? Uno ricco e uno povero, quindi diciamo separa, fa questa distinzione di mentalità tra il padre che va a scuola, studia, diventa un professore e il padre che invece non studia, inizia subito a essere un imprenditore e quindi è, diciamo, finanziariamente un padre di successo. Quindi fa questa distinzione fra, come se fossero due padri, ma sono due persone differenti. Quindi la distinzione tra chi rimane povero e quindi fa un lavoro tra virgolette normale come il professore e quindi rimane, sì, nonostante abbia studiato tutto quanto, rimane comunque una persona finanziariamente, economicamente più povera, ok? E invece il padre è ricco che appunto ha le aziende, ha gli assets, quindi diciamo proprietà, sa come gestire il denaro, tutta la parte finanziaria fondamentale, quindi lui comunque ovviamente è stata la parte del padre ricco e questo è proprio il punto, ok? Quindi fa vedere, diciamo, le distinzioni principali tra uomo normale e uomo invece imprenditore, imprenditore vero businessman, ok? Soprattutto sotto l'aspetto finanziario. Ok, Blowsian Strategy, Diciamo questo qui è più, parla praticamente delle diverse strategie innovative, comunque nuove, che hanno avuto brand famosissimi come per esempio Cirque du Soleil e l'altro che era la compagnia Yellowtail, la compagnia di vino australiano che praticamente hanno rivoluzionato, diciamo, il mercato del vino, eccetera, eccetera, mentre Cirque du Soleil, diciamo, il mercato del circense e quindi racconta un po' di queste strategie, di come tu devi principalmente comunque sempre aggiornarti sul mercato e anche e soprattutto creare un tuo oceano blu. Cos'è l'oceano blu sarebbe, a differenza dell'oceano rosso, tra virgolette, sarebbe appunto questo nuovo mercato che tu ti crei, quindi l'abilità di crearti un mercato nuovo dentro un mercato, ok? Quindi facendo ovviamente che hanno appunto un vantaggio competitivo rispetto ai tuoi competitors, basato principalmente su un prodotto che solo tu hai, completamente innovativo, capace di sbaragliare appunto la concorrenza. Questo è il senso principale. Comunque è un ottimo libro che dovete assolutamente leggere, appunto parla di vari brand, comunque imprese che hanno davvero fatto la storia dell'imprenditorialità, ok, del business, quindi assolutamente consigliato. Ah, questo proprio, uno dei miei preferiti, se non il mio preferito, The Fifth Law di 50 Cent e Robert Greene, Robert Greene famosissimo, ha praticamente scritto anche le 48 leggi del potere, power, sì, e praticamente questa è la storia di, anche la storia di 50 Cent, in questo libro parla appunto della storia di 50 Cent in maniera assoluta, incredibile, in quanto davvero 50 Cent ha avuto una vita che penso non gli augureresti nemmeno al tuo peggior nemico, proprio è stato, oltre ad essere nato poverissimo, senza genitori, non ha mai conosciuto i genitori, quindi orfano, proprio nei ghetti, nei ghetti americani, quelli brutti che vedete nei film, gli hanno, quindi oltre ad essere nato poverissimo, spacciava droga, vendeva droga, è stato, sono probabilmente, gli hanno sparato, non mi ricordo quante pallottole, però nonostante tutto è sopravvissuto e ogni volta, la cosa incredibile della storia di 50 Cent è che probabilmente ogni volta riusciva ad alzarsi, nonostante lui fallisse, come 5-6 volte, ritorna proprio al punto 0, ok? 0-0-0, senza niente, senza amici, ogni volta che lui perdeva tutto, per esempio, gli amici nemmeno, smettevano di parlare addirittura, quindi non avendo famiglia, non avendo amici, non avendo soldi, immaginate voi come potreste stare, cioè immagini tu senza soldi, senza niente, che devi ricominciare da 0 la vita, e lui ogni volta è riuscito comunque a ritirarsi su, da solo, a comunque, a creare un impero, praticamente, quindi dal nulla, è una storia veramente incredibile che vi consiglio e ti consiglio di leggere, ok? Quindi 50 Cent, top, numero 1, oltre a belle canzoni che tutti quanti conoscete, ma è veramente un grande, che non ha mai mollato e ha sempre andato avanti, nonostante le difficoltà della vita. Davvero fenomenale come è riuscito questo ragazzo a non mollare mai. Passiamo ora ad un altro famosissimo, super top imprenditore mondiale, di fama mondiale, soprattutto sui social, YouTube, Instagram, milioni e milioni di followers, penso insieme a lui, uno dei più grandi, Taylor Lopez ovviamente, che molti di voi conosceranno, con il suo libro Bello Giallo, lui ha, praticamente spiega, spiega proprio il potere dei social media, e come i social media sono in grado di, proprio far evolvere qualsiasi tipo di business, e qualsiasi tipo di business deve utilizzare i social media, lui ti spiega più o meno Instagram, Snapchat, Facebook, uno per uno, come puoi implementarli nel tuo business, come puoi tornarti utile, e quindi Gary Vee è top, anche lui, diciamo, non è nato poverissimo, però comunque ha portato l'azienda di famiglia, diventò milionario, non era ricchissimo, però è riuscito a diventare milionario grazie alla sua social media marketing agency, marketing, agenzia di marketing, e quindi ragazzi è davvero uno dei primi che ha utilizzato i social media, che sa esattamente come utilizzarli e li usa benissimo. Un lavoratore che sta sempre a lavorare, quindi vi dico un aneddoto che praticamente lui in un'intervista diceva che avrebbe voluto perdere tutto solamente per riconquistarsi e riguadagnare tutto da capo, quindi pensate come sta messo, però vabbè, sicuramente ha ragione lui. Passiamo adesso al The 4-Hour Workweek, questo è proprio la Bibbia, il Vangelo, questo è il Vangelo proprio del Nomade Digitale, quindi come assolutamente consigliatissimo, uno dei migliori, appunto Escape 9 to 5 Job, Live Anywhere, Enjoy the New Reach, ok, quindi principalmente racconta appunto di questa storia, come è riuscito ad automatizzare il suo business, è un po' come per costruire il tuo mindset su come devi appunto cercare di creare un business, comunque di automatizzare il tuo business, il modo da lavorare il meno possibile e giustamente fare quello che vuoi durante il tuo riposo, durante il tuo tempo libero. Quindi l'obiettivo è comunque i soldi servono, lo sanno tutti, ok, ho fatto anche un altro video a riguardo e qual è la miglior maniera per sfruttare i soldi e goderseli, ok? Quindi ci godiamo i nostri soldi tranquillamente lavorando il minimo possibile, automatizzando il business e vivendo soprattutto dove vogliamo, quindi volete stare in una bella spiaggia di Bali con le scimmie che vi portano i cocktail, i margaritas, lo potete fare grazie a un business online ovviamente e automatizzato il più possibile, ok? Va bene, adesso questo proprio è diventato il mio preferito in quanto ti trasmette una forza davvero incredibile proprio, questo ragazzi lo dovete leggere per forza per il mindset per costruire proprio una mentalità vincente, sarebbe proprio lui, la storia di questo agente che racconta di come lui amministra, gestisce e racconta proprio della vita privata dei grandi atleti come per esempio Kobe Bryant, uno dei loro, uno dei suoi, non discepoli, uno dei suoi clienti, ok? Quindi uno dei suoi clienti come agente appunto di giocatori di basket e ovviamente racconta tutto il retroscena, tutto quello che voi non vedrete mai, ok? In tv che ve lo dica fa? Cioè il tv è tutto filtrato però principalmente la vita proprio privata, le emozioni, i sentimenti che provano quei giocatori, cosa devono fare, gli sforzi, le fatiche per arrivare dove sono arrivati, quindi principalmente vi dà la carica per capire che voi, che tu puoi fare qualsiasi cosa se veramente lo vuoi, se hai la forza, ok? Di non mollare mai, di crederci che è la cosa più difficile, ti garantisco, ti garantisco proprio che non c'è cosa più difficile di non arrendersi, di non mollare, di crederci, di faticare, di lavorare, che solo i grandi campioni ti possono raccontare, ok? Quindi libro che assolutamente devi leggere, dovete leggere, quindi fatelo. Passiamo al prossimo, Purple Coe, quindi la mucca viola, ok? La mucca viola che è un po' storto sto libro però va bene dai, diciamo che principalmente ti dà un'idea di come voi dovete dovete riuscire a conquistare il vostro mercato, il vostro marketing come la mucca viola che è fondamentale per il nostro marketing, per il nostro business, perché principalmente cosa ci racconta questo libro? Vi faccio un esempio concreto, ok? Come appunto sfruttare il vostro marketing, come entrare, come riuscire a catturare l'attenzione del vostro pubblico, del vostro, appunto, del vostro cliente, quindi prendete per esempio un gruppo di mucche bianche e nero, ok? Sono tutte uguali fra loro, però mettendo una mucca viola dentro quel gruppo sembra come una cosa speciale, una cosa mai vista, ovviamente perché lo è, quindi il punto è, dentro questo gruppo di cose comuni, di cose che tutti vedono tutti i giorni, di cose non speciali, voi andrete ad inserire quel qualcosa che catturerà l'attenzione e che comunque andrà a far fluire il vostro pubblico, il vostro, appunto, l'attenzione del vostro cliente lì, dove volete voi, ok? Grazie a questa mucca blu, scusate, la mucca viola, no blu, quindi questo, diciamo, libro ottimo che va a letto, anche questo. Andiamo avanti e The Slight Edge. The Slight Edge, penso che è uno dei migliori libri che possiate leggere per il vostro mindset, per la vostra vita proprio in generale, che è proprio essenziale, appunto, turning simple disciplines into massive success and happiness. Che significa questo? Significa principalmente che voi avete, durante la giornata, ok? Farò anche un bel video a riguardo, voi avete magari molte, avete un po' proprio, molte cose che potete fare e potete non fare, ok? Come sono semplici da non fare, sono anche semplici da fare, ok? La differenza qual è? Che voi dovete scegliere, ok? Le cose da fare ogni giorno, durante la vostra routine, che andranno a influire nel lungo termine sul vostro fisico, sulla vostra mente, sul vostro business, cose che dovete fare, che però sono più difficili da fare, certe, e altre più facili da non fare, ok? Ovviamente, quindi più difficile da fare, sarà più facile non farle, giusto? Tuttavia, voi avete bisogno, soprattutto se volete costruire qualcosa, un business in particolare, avete bisogno, non c'è alternativa, non c'è scappatoia, di avere disciplina, di eseguire una routine e fare le cose, magari più noiose, per esempio, come leggere gli audiobook invece di ascoltare la musica, andare in palestra tutti i giorni, fare meditazione, e cose del genere, non vi preoccupate, andrò a fare un video anche su quello, molto importante, se non essenziale farlo, quindi, ragazzi, disciplina, e va oltre la motivazione, perché voi magari dici, eh, mi serve motivazione, no, se volete raggiungere un obiettivo, non esiste motivazione, lo dovete fare e basta, questa è una ricetta, io ve la do e voi la seguite, ok? Quindi, andiamo avanti, infine, ultimo libro, ma non per importanza, The Art of Work, ok? Allora, per chi non sapesse l'inglese, quella frase significa principalmente path like cammino, ok, da scoprire, questo libro vi aiuta a scoprire cosa voi eravate destinati, tra virgolette, a fare, ok? Quindi vi aiuta a scoprire attraverso, appunto, magari una visione un po' più psicologica, un po' più filosofica del business, cosa voi siete comunque portati a fare, ok? Un libro assolutamente utile e veramente, veramente fatto bene, quindi ve lo straconsiglio e mi raccomando ragazzi, se non li trovate in italiano, sentitevi lì, compratevi l'inglese, ci sono online, gratis, quindi mi raccomando. Detto questo, abbiamo terminato, possiamo dire che il video è terminato, è finito, quindi ora, tocca a voi, tocca a te, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche di YouTube per rimanere sempre aggiornato sui miei video, clicca mi piace e condividi il video con tutti quanti, amici, parenti, nipoti, cani, gatti, mi raccomando, importante e qualsiasi domanda sotto giù nei commenti. Voglio che mi fai sapere esattamente, giù nei commenti mi scrivi, voglio che mi fai sapere esattamente quale libro ti è piaciuto il più della lista e soprattutto quale libro andrai a leggere, quale libro ti ha colpito il più della lista dei 10 libri che ti ho proposto, quale libro proprio ti ha mosso qualcosa che ti spinge a leggerlo, a sapere cosa c'è scritto dentro, quindi ragazzi state aggiornati, al prossimo video.